Un'altra grande occasione per i lettori del Messaggero appassionati di cinema, in 72 potranno vedere gratuitamente Rimetti a noi i nostri debiti con Claudio Santamaria e Marco Giallini e diretto da Antonio Morabito il 4 maggio alla Multisala Adriano in Piazza Cavour a Roma alle 20,15. Si tratta del primo film italiano prodotto da Netflix. Per sfrutture questa opportunità i lettori dovranno mandare una mail a screening.netflix-gmail.com specificando nell'oggetto proiezione Rimetti a noi i nostri debiti il messaggero e poi specificare nel testo della mail nome e cognome e se vengono con un amico più uno. L'invito è valido per due, i primi 36 che scriveranno all'indirizzo mail indicato avranno accesso alla proiezione, insieme ad un accompagnatore, ma se vengono accompagnati dovranno scriverlo nella mail. Gli inviti sono fino ad esaurimento posti. Il film originale Netflix, disponibile dal 4 maggio e tradotto in 22 lingue, è prodotto dalla Luna, Lotus Production, una società di Leone Film Group con Rai Cinema. La trama Guido, Claudio Santamaria, vive tirando avanti come può, un lavoro saltuario da magazziniere, qualche bicchiere al bar con Rina, Flon Giacodelli, la nuova barista, e un vecchio professore, Jersey Stewart, vicino di casa con cui parlare ogni tanto. E molti debiti sulle spalle. Quando perde lavoro e subisce un'aggressione commissionata dai suoi creditori, capisce che l'unico modo per risollevarsi è paradossalmente lavorare per loro, divenendo lui stesso un esattore, lavorerà gratis fino a quando il debito sarà estinto. Franco, Marco Giallini, è un esperto e affermato recuperatore di crediti. Un demonio sul lavoro, un angelo tra le mura della sua bella casa, con la sua famiglia. Un equilibrio trovato grazie a fugaci confessioni in chiesa e corse mattutine nei vialetti del cimitero. È Franco che dovrà occuparsi della formazione di Guido. Una coppia singolare la loro, Franco, estrosse e affascinante, una maschera inscalfibile per Guido, Guido, riservato e solitario, un libro aperto per Franco. Due ruoli destinati a una mutua contaminazione. In poco tempo Guido entrerà così in contatto con persone che hanno soldi ma non vogliono pagare e con altre invece offese e umiliate, che hanno già perso tutto. A quel punto Guido non potrà non dare ascolto alla sua coscienza, costringendo Franco a svelare la propria natura. Copyright riproduzione riservata. Mercoledì 2 maggio 2018, ultimo aggiornamento, 15 e 6